I servizi ecosistemici sono la chiave di volta, cioè il punto di svolta in cui si può guardare la natura e gli spazi aperti, quindi pensare che la natura ha un legame stretto con l'economia, cioè con il valore. Valore perché porta benessere alla popolazione umana, ma non solo, a tutta la popolazione, alla biodiversità in generale, ma poi è un elemento determinante dell'adattamento climatico alla crisi climatica. Quindi poter dare un valore ai servizi ecosistemici vuol dire cambiare il punto di vista rispetto alla natura, investire invece di spendere, realizzare lavoro invece di conservare, cioè curare. E questo è l'aspetto di grande innovazione che deve nascere intorno a Milano, in città metropolitana, un grande spazio aperto, un parco metropolitano e agricolo milanese che finalmente può dare valore economico a questa struttura di verde, cioè al ciclo integrato del verde.